Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno martedì 14 novembre San Giocondo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! Dio onnipotente e misericordioso allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore In quel tempo Gesù disse Chi di voi, se ha un servo ad arare o appascolare il gregge, Gli dirà quando rientra dal campo Vieni subito e mettiti a tavola Non gli dirà piuttosto Prepara da mangiare Stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto E dopo mangerai e berrai tu Avrà forse gratitudine verso quel servo Per chi ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite Siamo servi inutili Abbiamo fatto quanto dovevamo fare Parola del Signore Lode a te o Cristo La frase più fuorviante del Vangelo è questa Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite siamo servi inutili Una frase che se venisse presa alla lettera potrebbe farci pensare che tutta la nostra vita conta poco Perché se sbagliamo allora siamo dei peccatori Se invece facciamo tutto quello che ci è stato ordinato siamo servi inutili E allora qualsiasi cosa facciamo non va mai bene Ma no, non è così naturalmente Quello che Gesù vuole insegnarci è semplicemente Che non dobbiamo mai inorgoglierci davanti a Dio per le cose buone che riusciamo a fare Ed è difficile non inorgoglirsi Infatti in qualche modo se facciamo ogni cosa fatta bene È facile che nasca la tentazione di pensare che allora Dio è in debito con noi Ho sempre fatto volontariato allora Dio deve proteggermi da ogni malattia Sono stato onesto allora Dio deve far andare bene le cose nella mia famiglia e così via Ma ricordiamoci sempre una cosa Se riusciamo ad essere persone buone questo è un merito sì Ma allo stesso tempo è anche la ricompensa Perché cosa c'è di più prezioso per una persona che essere interiormente buona Se riesci ad essere buono ringrazia Dio Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amen! LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen! E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di youtube Anche in altri modi vi unite a questa famiglia Per pregare per ascoltare il Vangelo Con i commenti con le condivisioni Collaborate alla diffusione del Vangelo Pace e bene Ciao ciao e abbi cura di te! A presto! 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 A presto!